La Guardia di Finanza ha arrestato per traffico internazionale di cocaina 5 persone che avrebbero agito per conto della cosca Bellocco di Rosarno e che facevano arrivare la droga nel porto di Gioia Tauro grazie anche all'apporto di squadre di lavoratori portuali infedeli. Gli arresti sono stati eseguiti tra le province di Roma, Reggio Calabria e Sassari. In carcere sono finiti Umberto Emanuele Olivieri, 32 anni, Domenico Pepe, 64 anni, Alessandro Galanti, di 38, Antonio Ponziani, 34enne ed Alessandro Larosa, di 41 anni. I cinque sono stati individuati come coloro che si occupavano di acquistare la cocaina in Sud America, di importarla in Italia attraverso navi che arrivavano al porto di Gioia Tauro ed in altri porti italiani dal Sud America, ovvero da Brasile, Argentina, Ecuador e Peru e dal Nord Europa, dal Belgio, e di rivenderla. L'operazione, denominata Balboa, ha permesso di accertare che il dominus del gruppo era Umberto Emanuele Olivieri, legato da stretti vincoli di parentela ad Umberto Bellocco, 82 anni, uno dei capi storici dell'omonima cosca. Ma dalle indagini è emersa anche la figura di Alessandro Galanti, ritenuto un vero broker internazionale in contatto con i narcos, che assieme alla Rosa e Ponziani coadiuvava i primi due nell'organizzare le forniture, e di Pepe, che si occupava dell'acquisto e dell'importazione della droga. Giunta nel porto di Gioia Tauro, la cocaina, nascosta all'interno di borsoni nei container, veniva recuperata dai lavoratori portuali e portata fuori dallo scalo. Il gruppo criminale poteva contare su una fitta rete di contatti, talmente ramificata da essere in grado di recuperare la droga non solo al porto di Gioia Tauro, ma anche in altri porti, sia nazionali che esteri, avvalendosi del potere intimidatorio esercitato dalla cosca Bellocco. Nell'ambito delle indagini sono quasi 600 i chili di cocaina sequestrati, mentre si è riusciti anche a ricostruire altre importazioni di droga per 312 chili, direttamente riconducibili all'organizzazione. L'operazione Balboa, sottolineano gli investigatori, conferma l'importanza strategica del porto di Gioia Tauro, vero e proprio snodo commerciale che le cosche dell'Andrangheta utilizzano per importare ingenti quantitativi di droga provenienti dal Sud America e dal resto d'Europa.